La tragedia del mare. Il magistrato vuole una risposta dall'autopsia. Nicol può aver avuto un malore? Cronaca. Bloccato dalla polizia mentre nasconde cocaina in un vigneto. Ferito un agente. Strade. La provincia punta sulla variante alla statale 150 per dare respiro alle aree industriali. Giulianova. Il calendario delle manifestazioni estive conta oltre 120 a basso costo. Buongiorno. Sono venuto in appuntamento con informazioni di Teleponte in questa prima edizione che si apre ancora con la tragedia del mare di Pineto. È dominato dagli accertamenti investigativi e giudiziari il giorno dopo il drammatico episodio di Torre del Cerrano dove la piccola Nicol di sei anni ieri pomeriggio è annegata mentre la mamma la cercava disperatamente sulla spiaggia. Domani potrebbe tenersi l'autopsia mentre il magistrato valuta la possibile iscrizione di indagati. Servizio. Sarà eseguita domani con tutta probabilità l'autopsia sul corpicino della piccola Nicol, la bambina che avrebbe compiuto sei anni da poco più di un mese, annegata ieri pomeriggio nello specchio di mare antistante la spiaggia di Pineto nei pressi della Torre del Cerrano. Il pubblico ministero che coordina le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Atri, Luca Sciarretta, nella giornata di oggi conferirà l'incarico al medico legale per la perizia scientifica. Per fare ciò non è escluso che lo stesso magistrato possa iscrivere nel registro degli indagati, con atto doloroso ma purtroppo quasi dovuto, la mamma della bambina che ieri si trovava in spiaggia mentre Nicol faceva il bagno e che all'improvviso ha perso di vista. Nicol viveva a Udine, nella zona sud della città, con i genitori e stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Pescara con la mamma, giocatrice di basket, che era arrivata in Abruzzo per far visita ad alcune amiche prima di recarsi a giocare in Toscana. Ieri, poco prima delle 17, in una splendida giornata di sole e mare e la tragedia, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, la bimba era andata a fare il bagno e la madre la guardava dall'ombrellone. Improvvisamente l'avrebbe persa di vista ed un'amica sarebbe andata in acqua a cercarla senza riuscire a trovarla. È stato un bagnante a farlo, che l'ha notata galleggiare a testa in giù in un punto del mare distante da dove era scomparsa. È stata portata a riva, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118, durati oltre un'ora, non sono riusciti a strapparla alla morte. Nella tarda serata di risera a Roseto, il personale della squadra mobile della questura di Teramo, nel corso di una specifica attività antidroga, ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni, residente a Roseto. Da alcuni giorni l'uomo era seguito dai poliziotti durante i suoi frequenti trasferimenti a bordo di una scooter. Verso le 22.30, dopo che si era introdotto in un campo non coltivato, è stato bloccato dagli stessi agenti in un vigneto, mentre cercava di nascondere in una buca scavata in pochi minuti nel terreno un involucro che risulterà poi contenente 120 grammi di cocaina. L'uomo non si è arreso di fronte all'evidenza, ha reagito violentemente avviando una colluttazione con gli agenti per non essere immobilizzato, che ha portato a lesioni per dieci giorni subite da un poliziotto, mentre lo stesso albanese è risultato guaribile per ferite in sei giorni per alcune escoriazioni. Dopo il recupero dello stupefacente, dalla perquisizione personale è emerso che nascondeva in una tasca del giubbino vario materiale per il confezionamento delle dosi. Per questo, dopo le formalizzazioni degli adempimenti di rito, è stato condotto, su disposizione della Procura della Repubblica, agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. La provincia di Teramo ha avuto una riunione con l'ANAS per valutare la realizzazione della variante 150 tra lo svincolo della A14 di Roseto e la statale 16 in località Cerni di Pineto, che punterebbe a dare più respiro alle aree industriali dei tre centri di Pineto, Roseto e Atri. Vediamo il servizio. Importante incontro della provincia di Teramo con l'ANAS per la realizzazione di una nuova art aerea nei pressi dell'uscita autostradale di Roseto e la statale 16. Presidente, ci sarà sicuramente una migliore viabilità molto presto con questa nuova opera? È un'idea che è in campo da anni, noi l'abbiamo ripresa. Si tratta sostanzialmente di costruire una bretella che va dallo svincolo autostradale dell'A14 in località Roseto degli Abruzzi, passa per la zona industriale di Cerni e anche Atri e sfocia poi sulla SS16 in prossimità di Cerni. Ha un duplice valore. Il primo è quello di collegare aree produttive direttamente all'autoporto e allo svincolo della SS16. Il secondo beneficio è quello di sgravare il traffico sulla SS16 sia in direzione sud verso quindi Pineto che in direzione nord verso Roseto degli Abruzzi. L'ANAS è dunque favorevole alla realizzazione di quest'opera? Si può prevedere quando si potrà cominciare a realizzare qualcosa? Noi in questi mesi abbiamo avuto delle interlocuzioni con il Ministero dell'Infrastruttura, in particolare con il Vice Ministro Nencini che sarà qui a Teramo l'8 luglio per un importante convegno sugli appalti. Dal Ministero siamo andati all'ANAS, l'ANAS sta realizzando la progettazione preliminare, abbiamo chiesto alla Regione di inserirlo nel piano trennale da inviare al Ministero per i necessari finanziamenti. Parliamo di un importo di 18-20 milioni di euro perché anche lì sarà necessario fare un ulteriore ponte sul fiume romano. Una prova scritta per la maturità negli istituti superiori Teramani. Alle 8.30 sono stati aperti questa mattina i plichi telematici, le sorprese non sono mancate. Il liceo classico per il greco è una versione di Isocrate tratto dall'opera Sulla Pace. Il testo si intitola Vivere secondo giustizia non solo è corretto ma anche conveniente per il presente e per il futuro. Nel brano Isocrate esorta i suoi concittadini a non cadere nella trappola dell'ingiustizia. Chi viola le norme si illude di trarne un vantaggio immediato ma alla fine finisce in rovina. Il Ministero dopo circa 60 anni ha così rispolverato un brano dell'autore ateniese databile del V secolo a.C. è scelto solo due volte per la maturità nel 1925 e appunto l'ultima nel 1958. Studio della funzione e integrali per la prova di matematica invece al liceo scientifico. La prova consisteva in due problemi e dieci quesiti dei quali bisognava risolverne solo sette. Nel primo problema si chiedeva agli studenti di procedere alla risoluzione di un caso. Un amministratore di condominio ha le prese con l'installazione di un serbatoio di gasolio. La seconda proposta invece è lo studio di una funzione. Ai maturanti è stato chiesto di risolvere i quesiti dello studio di funzione. Poi i dieci quesiti, due sul calcolo della probabilità e otto sui problemi di analisi e geometria. Un confronto tra i sistemi scolastici in Italia ed Europa e i 70 anni dell'assemblea costituente sono state invece le tracce per gli studenti del liceo delle scienze umane. Per gli istituti commerciali il quesito di economia aziendale verteva su una società che lavora nel mercato della meccanica di alta precisione. I ragazzi dovevano redigere il budget e presentare lo stato patrimoniale e il conto economico. Infine nell'indirizzo dei servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera i candidati dovevano approfondire il concetto di sana dieta alimentare. Individuare i perimetri comuni di lavoro con un unico obiettivo la tutela delle persone danneggiate nell'interesse della collettività e sulla base di questi presupposti che una delegazione di medici legali aderenti al SISMLA, il sindacato italiano specialisti in medicina legale dell'assicurazione tra i quali anche i referenti terramani Michele Farinacci e Maurizio Monina ha incontrato martedì scorso a Montecitorio una delegazione dell'ANIA, l'associazione nazionale fra le imprese e assicuratrici. Promotore del confronto chiesto dal segretario nazionale del SISMLA Raffaele Zinno è stato il deputato di scelta civica Giulio Sottanelli capogruppo in Commissione Finanze. L'incontro è servito per un approfondimento dei ruoli reso attuale ed urgente dalla nuova normativa in discussione al Senato sulla responsabilità sanitaria. Dal confronto è emersa l'esigenza di condividere azioni finalizzate ad alleggerire la mole dei contenziosi ma anche di individuare criteri comuni per quantificare gli indennizi assicurativi. Un altro abbandono per la città di Teramo, un'altra scomparsa questa volta è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che non ha più fondi da destinare alla divulgazione e dunque si ritira dalla cogestione del Museo della Fisica e dell'Astrofisica. Il Comune dovrà decidere adesso cosa fare dell'area del Parco della Scienza. L'INFN ha infatti reso noto di aver deciso assieme al Comune di chiudere la fase di gestione condivisa del Parco della Scienza alla Gammarana non trovandosi l'Istituto nella condizione di rispondere efficacemente alle importanti necessità sia in termini di risorse umane che finanziarie che l'ambizioso progetto richiede. Questo mette il Comune nelle condizioni di valutare adesso nuove possibili destinazioni all'intera area. La decisione è dovuta principalmente a ragioni legate alla disponibilità di budget e di personale che portano all'Istituto di Fisica Nucleare. Una doverosa razionalizzazione delle proprie attività di informazione e divulgazione scientifica si legge in una nota dell'INFN. L'Istituto continuerà ad essere presente nel panorama culturale della città in virtù dell'esperienza sicuramente positiva di questi anni e con la consapevolezza di un territorio particolarmente attento alle tematiche di carattere scientifico. I cittadini di Sant'Atto lamentano la sporcizia che regna nel quartiere. Da giorni gli operatori della Team, come potete vedere anche dalle immagini, non raccolgono i nostri rifiuti. Dicono che adesso con l'arrivo del caldo la situazione è diventata insostenibile. Comprendiamo, dicono i cittadini, il momento che stanno vivendo gli operatori della Team, ma siamo cittadini che pagano le tasse e pretendiamo di vivere in un quartiere pulito. I cittadini residenti della zona di Sant'Atto chiedono pertanto alla Team di intervenire in modo da ristabilire al più presto il decoro urbano, con la speranza che tali disservizi, come potete vedere appunto dalle immagini, non si ripetano più in futuro. Passiamo adesso a Giulia Nova, perché è stato presentato Giulia 20 2016, il cartellone estivo dei programmi. Ci sono oltre 100 eventi che spaziano dall'opera alla lirica, dalla musica all'arte, dal cabaret al teatro, dallo sport alla enogastronomia. Vediamo il servizio. Il cartellone è nutrito, ricco di molti eventi, costato 16 mila euro, c'è molto di meno rispetto a quello che c'è, con sorpresi finali come il ritorno dell'opera e l'aggiunta dell'operetta, oltre a tante manifestazioni. Sin, come siete riusciti a fare questo piccolo miracolo? Solo col gioco di squadra, con l'umiltà e il lavoro dei miei collaboratori. Un ringraziamento particolare al consigliere che ho incaricato per le manifestazioni, Carlo Mustone, al vice sindaco, Nausica Cameli, all'assessore al turismo e al commercio Gianluca Grimi, al mio incaricato al BIM Fabrice Ruffini, perché abbiamo dimostrato che anche senza risorse si può confezionare un cartellone di questa levatura e qualità. Eventi tutti i giorni che valorizzano il centro rinascimentale e il centro dell'Ido e anche i quartieri, con tanta tanta qualità. Il Parco Cico Mendez che diventa e ridiventa un'arena dove realizzare musica live, Maurizio Battista, tanti eventi di intrattenimento e di musica. Carlo Mustone, il delegato alle manifestazioni, ha presentato il calendario e ha dichiarato nel corso del suo breve intervento che non ci si può lamentare. Non è vero che non ci sono iniziative per i giovani in questa città e che devono andare fuori così? Sì, è un calendario a 360 gradi, iniziando da Piazza della Libertà, dove ogni sabato si farà Piazza Pop Notte d'Autore, fino al Cico Mendez, dove dall'8 luglio ci saranno il Pan del Diavolo e il 10 luglio Italo Brosse. Allora, questo vuol dire che quindi avete, tra l'altro, oltre a questo, curato anche altri settori. Entra la cultura prepotentemente, la riscoperta di Palazzo Bindi con la sua terrazza. Sì, giovedì in terrazza, un'invenzione, diciamo, di Sirio Pomante. Poi tanti personaggi arrivano, ad esempio Maurizio Battista, torna Giobe Coatta, Giobe Coatta, Fulvio Fuina, Angelo Carestia ed altri. Due novità, torna l'opera e c'è l'Operetta. Sì, il Gran Gala dell'Operetta che si farà all'Anfiteatro e il Barbiere di Sivigli in Piazza Buozzi. A Bellante invece al via la Sagra delle Lumache. Fino al 26 giugno è in programma la settima edizione della manifestazione culinaria Sagra delle Lumache con specialità gastronomiche, mostra mercato di prodotti tipici e spottacoli tutta la sera. Vediamo il servizio. Al via la settima edizione della Sagra delle Lumache a Bellante. una Sagra molto particolare che all'inizio lasciò tutti un po' perplessi, ma col passare degli anni questa Sagra prende sempre più piede e viene sempre più visitata. Assolutamente sì. Ieri sera abbiamo iniziato veramente con moltissima gente. Abbiamo praticamente fatto il doppio delle persone dell'anno scorso come prima sera, quindi sta andando veramente bene. La gente sta apprezzando molto il prodotto, anche perché è veramente di qualità. È un prodotto che prepariamo noi accuratamente, come facevano le nostre nonne, quindi veramente sta andando per il verso giusto, diciamo. Ma cosa si può degustare in questa Sagra? Allora, a parte le Lumache che è il piatto tipico, eccetera. Poi abbiamo le tagliatelle di farro con sugo di Lumache, abbiamo un primo tipico del posto che sono le pennette la Bellantese, che praticamente è un trissi di carne, poi piselli e funghi. Poi abbiamo frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsiccia, un po' tutte le cose classiche, ma il piatto frotto comunque rimane sempre a Lumache. E naturalmente c'è spazio anche per il divertimento ogni sera? Assolutamente sì. Ci sono giostri per bambini, c'è oggettiscano con artisti locali, diciamo artisti di strada, tutte queste cose qui. C'è, ripeto, intrattemente scivoli per bambini, gonfiebbi, tutte queste cose qui, quindi aperte a tutti. L'associazione culturale Bellante Inn, insomma, si impegna ogni anno per questa manifestazione che riscuota sempre più successo e naturalmente, oltre a tante bontà, ci sono molti motivi per venire a Bellante. Già da questa sera c'è il pullman di R9, che mette musica, siamo in diretta sulla radio. Domani sera c'è il saggio finale della scuola Cherubino, una scuola di musica a Bellante. Sabato sera c'è il secondo taglio, un gruppo folcloristico abruzzese. Sì, come dicevamo, in piazza ci sono i giochi per i bambini, il mercatino di oggettistica, le giostre, una sagra per la gente di tutta l'età. Venite a trovarci. Dal 1997 in Italia si svolge la festa della musica. Quest'anno la ventunesima edizione vede coinvolte 278 città e più di 8.000 artisti. In provincia di Teramo l'unico appuntamento in programma è quello promosso dal comune di Silvi Marina, che sabato prossimo ospiterà l'edizione provinciale. Vediamo. Sabato prossimo a Silvi la festa europea della musica 2016. In prossimità del lungomare un'edizione appunto tutta dedicata alla musica e al divertimento. Sì, siamo alla seconda edizione. Quest'anno la nostra edizione diventa un po' provinciale, anche perché siamo il paese di riferimento per la provincia di Teramo di questa importante manifestazione, patrocinata anche dal Ministero dei Bene e dell'attività culturale del turismo. In più, quest'anno c'è un'ottima collaborazione con il Festival internazionale di Barolo Cuneo Collisioni. Infatti il vincitore del nostro contest sarà ospite di questa importante manifestazione e rappresenterà l'Abruzzo in quel di Cuneo. È una festa che comunque vedrà la partecipazione di una decina di gruppi, tra cui anche i gruppi provenienti da fuori regione, oltre a tanti artisti locali che si potranno esibire su un palco sin dal primo pomeriggio. Non soltanto grande musica, ma anche mercatini, libri, fumetti, artigianato, dischi in questa bellissima festa che ci sarà sabato. Sì, l'idea rispetto alle edizioni precedenti è stata quella di costruire un piccolo villaggio intorno a Piazza dei Pini, una piazza importante per il comune di Silvi, dove naturalmente ha ospitato molti eventi negli anni, e dove l'Arcine ha ospitato uno di carattere nazionale, quindi ci fa piacere tornare. Questo villaggio è fatto di mercatini sui dischi, quindi sulla musica, ma non solo, sui fumetti, tutto artigianato fatto a mano, che insomma è tipico trovare nei concerti. Quali sono i gruppi che arriveranno a Silvi per il 25 giugno? Allora, per adesso sono prenotati, fino al 22 c'è ancora la possibilità di fare richiesta, di iscriversi quindi per partecipare a questo contesto di artisti emergenti, una quindicina di gruppi e alcuni anche fuori della regione. La cosa positiva è che sono gruppi e generi musicali molto diversi, cioè chi va dalla musica classica al garage punk, insomma, classico. E poi la chiusura dell'amministrazione, anche questa è una novità che abbiamo voluto inserire quest'anno, sono di The Cyborgs, che è un gruppo ormai famosissimo a livello nazionale, perché nel musica blues psichedelico e non solo, poi che fanno il garage particolare, hanno aperto gruppi come hip hop eccetera, e quindi voglio dire il meglio ce lo lasciamo alla fine per chiudere questa edizione 2016, che ricordiamo di essere la ventunesima edizione della festa europea della musica in Italia e per la prima volta vede anche il ministero coinvolto. E adesso parliamo di una tradizione molto sentita a Teramo e non solo. La statua della Madonna delle Grazie oggi ha fatto visita alla casa di riposo De Benedictis di Teramo. Gli anziani l'hanno accolta con canti, l'infiorata e con disegni realizzati su stoffa ed esposti sui balconi dell'edificio. Vediamo. Hanno preso il via ufficialmente oggi, festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. alla casa di riposo De Benedictis di Teramo, ha fatto visita alla statua della Madonna delle Grazie e da lì tante altre iniziative per celebrare questo giorno importante che cade il 2 luglio. Sì, intanto questa è una struttura, una delle più grandi di Abruzzo. Qui noi, come diciamo sempre, è la vera Teramo, perché sono tutti cittadini che hanno fatto grande la nostra città, che si sono impegnate, adesso si trovano in un momento di difficoltà e sono qui ospiti. Però noi ogni anno, come associazione Teramo Nostra, apriamo la festa. Il 2 luglio porteremo qui la banda. La mattina aprirà anche ufficialmente il concerto, la banda di Noi Cattaro. Quest'anno viene... e voglio ringraziare anche a chi ci dà una mano, speriamo, perché noi diciamo questa festa è importantissima per la nostra città, si finanzia solo con la lotteria. Io dico, date un contributo quando più potete, per non far morire questa nostra tradizione bellissima. Grande festa la casa di riposo, l'infiorata, canti, naturalmente la Santa Messa e poi splendidi disegni realizzati su della stoffa che fanno bella mostra di sé nei balconcini della struttura. Insomma, una grande festa oggi, gli anziani si sono tanto divertiti. Sì, anche perché bisogna considerare che hanno lavorato tanto, poiché sentono tanto il valore religioso. Quindi tutto ciò che è visto qui è stato realizzato da loro con grande impegno in oltre un mese di tempo. Quindi siamo contenti della collaborazione di tutto il personale, della struttura e soprattutto dei nostri ospiti che ancora partecipano attivamente, anzi sono volenterosi e molto interessati a che si possa far vedere che il loro impegno continua. Sono queste occasioni in cui gli anziani si divertono, pregano, insomma vivono giornate senza dubbio indimenticabili. Sì, allora la Casa di Riposo di Benedictis insieme alle altre strutture di cui si occupa l'ASP praticamente fa sempre queste iniziative proprio a favore degli anziani affinché trovino dei momenti anche di relax ma anche molto importanti perché qui ci tengono molto alla Madonna. Ringraziamo innanzitutto tutti gli operatori della Casa di Riposo che hanno permesso questo incontro con la statua della Madonna delle Grazie e soprattutto Teramo Nostra che ogni anno praticamente si preoccupa di portare qui la statua. È un momento di vedere che tempo farà, le previsioni meteorologiche sono collocate dal servizio metotteramo.it e poi passeremo alla pagina sportiva. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio parzialmente nuvoloso sui settori appenninici poco nuvoloso, sui settori subappenninici in serate nella notte sereno, temperature stazionarie massime comprese tra 29 e 32 gradi nelle conchie aquilane marsicane tra 28 e 31 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati settentrionali, mari poco mossi. In provincia di Teramo al pomeriggio variabile sulle zone appenniniche moderatamente nuvoloso sulle zone subappenniniche in serate nella notte sereno temperature in aumento massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 29 e 32 gradi sulle coste venti moderati nord-occidentali, mari poco mossi. Parliamo di Teramo Calcio, dopo aver messo a segno il secondo colpo di mercato con l'ingaggio di Croce ufficializzato ieri pomeriggio, i biancorossi continuano a seguire varie piste in entrata e a buon punto la trattativa con il trequartista di scuola fiorentina Federico Carraro, classe 1992, in scadenza con il Pavia. Faripuntati inoltre sul terzino destro Angelo Benjimenga, ex Foggia, e sui giovani Dennis Scapinello del Cuneo e Mattia Placido del Savona. Parte domani nella centralissima piazza Marti della Libertà a Teramo la seconda edizione della Summer Cup Carmine Rodomonti, torneo promosso e organizzato dalla FC Gaetano Bonolis, Teramo affigliata alla società sportiva Teramo Calcio. L'evento nato per ricordare un grande uomo di sport terramano come Carmine Rodomonti, tra l'altro confondatore dell'Adise, vedrà la sua naturale conclusione il prossimo 30 giugno. I biancorossi Teramo 1913 esordiranno con il gruppo del 2005 nella giornata di lunedì 27 giugno, sfidando in rapida successione gli altri team del proprio raggruppamento. Le 18.45 la polisportiva con l'atterrato, le 19.30 la bianca azzurra San Nicolò e le 21.30 l'Universal Roseto. Adesso passiamo a Giulianova. Il nostro obiettivo è quello di fondare una società seria con fondamenti solide perché possano fare calcio per decenni. Il presidente del Real Giulianova, Luciano Bartolini, appare subito ambizioso in vista della nuova avventura giuliese. Ascoltiamolo. Luciano Bartolini, l'uomo nuovo del calcio giuliese? Sì, penso che sia tutto a posto, quindi possiamo dire che inizia una nuova avventura. Ma come ti è venuta l'idea? Ma per scherzo, parlando con degli amici di Roseto, mi hanno detto se ero interessato a fare calcio a Giulianova, che è una piazza con tanta passione e sono andato poi a vedere le varie situazioni e mi sono appassionato di questa piazza. Si stanno tenendo risultati importanti, cioè anche il coinvolgimento di tutte le altre realtà come tu hai sperato all'inizio. Vediamo se possiamo fare qualcosa insieme tutti. Sì, penso che questo sia il primo passo. Questo avviene quando si ha l'idea tutti quanti di fare calcio. Quindi da adesso in poi faremo questo, solo e esclusivamente calcio. Tu stavi si potuto rimanere nelle Marche con la Folgo Reveregra e fare anche la domanda di ripescaggio e ritornare in via, così? Sì, sì. Noi non l'abbiamo più fatta perché quella purtroppo è una realtà che non dà risultati. Vuoi la gente allo stadio? Beh, ogni presidente che ha passione per questo gioco ha bisogno della gente. Diciamo che si riparte dalla promozione. Un percorso che tu hai fatto tra l'altro con la Folgo Reveregra, promozione, eccellenza Serie D? Sì, in tre anni siamo andati dalla promozione alla Serie D. E possiamo dire che questo è lo stesso obiettivo? Beh, qui possiamo dire che l'obiettivo è quello di rifondare una società seria con fondamenta solide che possa fare calcio per decenni. Questo è il primo passo. Poi dopo i risultati sportivi vengono di conseguenza. E' importante questa mediazione del sindaco? Sì, sì. Il sindaco Francesco è stato molto importante. Abbiamo subito trovato sintonia. Io lo ringrazio pubblicamente perché lui ha creduto in me e quindi spero di ridargli tutta la fiducia che mi ha dato. In bocca al lupo, naturalmente. E poi a proposito di questa nuova realtà calcistica Giulianova, sentiamo il sindaco Mastomauro. Il calcio Giulianova riparte. Anche quest'anno ci sono stati problemi come l'anno scorso. Riparte con un nome reale. Real Giulianova. Del resto nessuna polemica. Il Teramo ripartì da Real Teramo in promozione. Questo reale permetterà al Giulianova di fare lo stesso cammino del Teramo? Intanto io sostengo e ho sempre sostenuto che la passione e l'entusiasmo per il calcio nella nostra città è solo sopito e manca soltanto l'occasione per farlo ridestare. In questi ultimi 5-6 anni sicuramente le vicende societarie non hanno aiutato questo entusiasmo. Quest'anno io ho detto dal primo momento che non è importante qual è la serie nella quale si milita ma è importante ripartire con un progetto serio e soprattutto senza debiti. Io ho voluto anche un'altra cosa. L'imprenditore Luciano Bartolini mi ha contattato così come ho contattato e sono stato contattato da altri quattro gruppi. L'unico rammarico che neppure un gruppo era di Giulianova e alla fine con Luciano Bartolini si ricomincerà dalla promozione così come lei ha ricordato ricominciò il Teramo con Luciano Campitelli dopo il fallimento. Ma di nome Luciano entrambi. Ma non solo questo perché io ho lavorato e ringrazio la sensibilità di quei protagonisti di cui farò cenno di qui a poco per ricomporre una collaborazione che spero metta fine a tutte le diatribe, a tutti i litigi che in questa città ci sono attorno al calcio e non solo. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione, le 19.15. Nel frattempo buon proseguimento di programmi con Teleponte. Grazie per averci seguito.